Il TCG di One Piece sta calando? Quanto ancora a lungo la casa madre potrà creare nuove carte e questa produzione sarà strettamente legata al ciclo vitale del manga? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Ultimamente mi è capitato di ascoltare ex giocatori del GCC basato sul capolavoro del maestro Oda riguardo ad un drastico calo delle quotazioni per quanto concerne il mercato globale delle singole. L'esempio che si prende più in considerazione vede proprio il povero Queen dello starter di Kaido dato che negli anni passati si aggirava attorno ad un valore superiore ai 10-15 euro mentre ora con un decimo del prezzo si può recuperare senza fatica. Per non parlare dei borsalino, diverse secret e molti altri elementi che hanno avuto un primo decollo di valore vedendo poi un tracollo ed infine un assestamento. Ma allora davvero il mercato globale del TCG di One Piece sta giungendo ad un punto di non ritorno? Nel video di oggi andremo ad affrontare questo tema andando a toccare dei punti 4 per la precisione che mi auguro chiariranno degli aspetti fondamentali che dovranno essere assolutamente presi in esame. Ed ora scopriamo assieme se sarà vero che a breve si verificherà un collasso delle quotazioni con conseguente chiusura del TCG di One Piece. Andiamo a dargli un'occhiata. Il mercato sta crollando e si salvi chi può ma in realtà quello del gioco di carte in questione sta seguendo delle fasi naturali che un GCC dovrebbe seguire a partire già dal principio. Vi ricordate quanto costavano le carte in OP-01 agli albori? Se non ve lo ricordate parecchio vi basti pensare solamente che non c'era prodotto e bandà i dati buchi fatti con altri TCG che tuttora porta avanti ci andò molto ma molto cauta introducendo i box e gli starter all'interno del mercato con il contagocce. A quel tempo carte come gli X-Drake ad esempio di largo utilizzo in mazzi meta si aggiravano attorno ai 5 euro proprio come le Perona o i Weevil per il blu attualmente che dopo un periodo di assenza hanno visto il loro prezzo schizzare alle stelle idem per Jinbe SR. Quest'ultimo ieri stava a 3 euro ed ora ad infinito ma ci sta è tornato mingo e la cosa si fa sentire ovviamente. C'è anche da dire che la stessa Perona non verrà ristampata in PRB-01 ma magari nel secondo atto di questa espansione e le grandi Queen regine incontrastate del mercato attualmente si possono reperire a poco più di un euro a singola copia visto che nel The Best potrà essere reperita senza cercare troppo ad esempio nel box giapponese che ho aperto in live vi lascerò il link qui ne ho addirittura trovate tre o due se non sbaglio comunque è anche questo che porta a pensare che il mercato andrà a rotoli. L'arrivo delle ristampe Le ristampe stanno uccidendo il gioco Quando ci trovavamo a dover giocare con poche carte reperibili le barriere per accedere al gioco erano alte e ci si lamentava del fatto che OP fosse un TCG da pochi eletti. Ora invece si grida all'indignazione perché le carte sono più disponibili ed il loro prezzo è crollato. Ma allo stesso tempo vorrei far notare che le barriere d'ingresso si sono abbassate e a parte quei due o tre mazzi meta ce ne sono altri che possono essere costruiti con un investimento davvero contenuto. Due esempi lampanti? UTA che potrà essere costruito con due starter differenti sempre riguardanti UTA rispettivamente l'undici ed il sedici e che oramai non necessiterà neanche più dei kid costo otto dato l'ingresso di Shanks Film e la oramai più che certezza Nami che ad ogni set riceve un supporto che agli inizi non erano granché ma dopo otto espansioni insomma uno per otto per quattro iniziano ad avere un certo peso. Mentre le carte che abbiamo in raccolta dipende ovviamente dalla carta ad esempio una Oda Signed manterrà il suo valore non avendo ristampe in vista ma anche le stesse manga. Ma come le manga Arconte non verranno ristampate tutte? Sì ma a parte Nami che sarà esclusiva del set PRB01 le altre vedranno dei cambiamenti a livello di testo e quindi facilmente riconoscibili. Ovviamente se volevate ottenere un profitto da una carta SR o presente in uno starter o dovevate venderla a tempo debito altrimenti come in ogni TCG la ristampa prima o poi sarebbe arrivata soprattutto per carte appartenenti a quelle categorie. Prendete in considerazione le alt e le manga come un investimento che si vede alla lunga mentre tutte le altre carte come una sorta di scalping si comprano e si rivendono nell'arco di un breve lasso di tempo. Ok Arconte ma tanto come per il vecchio gioco di One Piece anche questo prima o poi andrà a morire. Quando finirà il manga tutto cesserà di esistere. Intendi questo? Parliamone. Il TCG è vitalmente legato all'anime. Parliamo di One Piece Car Game il TCG che è nato nel lontano 2002 vedendo il suo tramonto tre anni dopo nel 2005 e capiamo anche il perché si è andato a sparire. In quegli anni il manga veniva stampato a cadenza mensile ma allo stesso tempo una saga poteva durare addirittura sei mesi. Prendiamo ad esempio una delle mie preferite quella di Alabasta dove ce ne sono voluti per concluderla addirittura otto. Ciò ovviamente per un TCG di quell'epoca dove Pokémon stava dando schiaffi a mano aperta ai collezionisti, Magic sempre più affermato e Yugi che iniziava a conquistare più consenso tra i giocatori grazie anche all'anime trasmesso su Italia 1 aspettare di pubblicare dopo più di metà anno un set a tema per il nuovo ciclo di avventure di ruffieco risultava abbastanza dispersivo se preso in mezzo a tutte le novità dei GCC dei primi anni 2000. Se poi si prende in considerazione che il gioco in questione è uscito nel 2002 in Giappone arrivando qui in Italia solo anni dopo quando i grandi tre erano diventati tali capite anche voi che non c'era da aspettarsi un grande titolo che potesse competere. Poi prendiamo in considerazione anche il fatto che i tempi non erano maturi, non c'era internet come lo conosciamo ora, si girava con i cellulari con i tasti tipo il Nokia 3310 e si aveva ancora il pc che citava ora è possibile spegnere il computer quando si smetteva di utilizzarlo e il quadro risulta più completo. Ho ad esempio trovato per puro caso all'epoca in edicola il manga di One Piece dove ci sono ancora le lire. Accompagnai mio padre a comprare Tex e lo vidi, preso ovviamente o per meglio dire mi sono aggrappato come un gatto forastico agli attributi di mio padre per farmelo comprare. Ed eccolo qui, dopo più di 20 anni. Ma ci sono capitato per caso in edicola e l'occhio mi è caduto sulla copertina altrimenti non avrei mai saputo se non per sentito dire o per passaparola tra amici alla scuola che esistesse anche un manga. Per me c'era solamente la serie animata e basta. Ancora per caso ho trovato sempre in edicola le action card che mi porto dietro ancora oggi e sempre per caso ho comprato questo, il mio primo deck di One Piece TCG o per meglio dire Car Game che vede i personaggi di Alabasta esserne i protagonisti. Questo per dirvi cosa, che non è stata fatta una pubblicità capillare come quella per Magic, i Pokémon o Yugi ad esempio. Ci bombardavano di informazioni riguardo merendine, ovetti con sorpresa, cereali e quanti più prodotti possibili con il loro marchio impresso sopra. Pubblicità che al tempo veicolavano il loro messaggio in due modi, la televisione e le riviste di settore. Non esisteva YouTube, i social, non c'erano i blog o per meglio dire non trattavano questi settori e via discorrendo. Bisognava investire in pubblicità sui media per farsi conoscere e in questo i Big Three sono stati maestri. Poi con il passare dei decenni ci siamo collegati gli uni agli altri, ora contattare un amico che si trova in America non è più un problema, il mercato dei TCG è stato globalizzato e per comprare singole dalla Cina basta un semplice click del mouse. Per non parlare dei sistemi di informazione, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X e quanti più siti possibili esistono che consentono di condividere notizie in tempo zero e con le sponsorizzate, se si investe oculatamente il proprio denaro, si raggiunge un pubblico sempre più vasto da coinvolgere. Ci mettiamo anche che il progetto PTCG è nato quando il manga oramai era conosciuto in ogni dove appassionando milioni di lettori e che lo stesso Oda sarebbe stato coinvolto e il gioco è fatto, sia una ricetta perfetta per poter mettere sul tavolo un TCG che può tranquillamente dire la sua tra i grandi. E per quanto riguarda il legame tra TCG e manga? Chi lo sa, probabilmente morirà o no. Non dobbiamo fasciarci la testa pensando a quello che succederà tra 6.000 anni, perché il manga ci sopravvivrà a tutti. Voi questo lo sapete, sì? Quello che dico è giocate, non pensando a quello che verrà, ma godendovi il momento e l'esperienza che questo meraviglioso gioco di carte collezionabili vi regalerà set dopo set. A proposito, Arconte, parlando di set, si arriverà ad un certo punto dove i personaggi saranno finiti e quindi finito sarà anche il numero di stampe che potranno pubblicare. Per rispondere qui utilizzerei una mia acerrima nemica, ovvero la matematica. La stampa dei personaggi arriverà ad un limite. Calcoliamo assieme, un character può avere 6 possibilità di colore e per ogni tonalità 10 numeri a disposizione, da costo 1 a 10. Quindi può essere stampato massimo 60 volte? Stando alla pura e semplice matematica, sì, ma se prendiamo una carta a caso come boa blocker costo 4, avremo lo stesso personaggio ma che rappresenterà due carte diverse. La prima di OP01, la seconda del diciassettesimo starter, hanno lo stesso valore di giocata ma ha effetti a sé stanti. Si eguagliano unicamente a livello di testo per la parola chiave blocker e per il tratto. Quindi oltre al costo e al colore bisognerà prendere in considerazione anche la forza e molti altri aspetti che renderanno le possibilità di stampa pressoché infinite. Perciò questo gioco morirà? Il suo mercato calerà a picco? Al momento lo vedo godere di ottima salute anche se il mercato a volte traballa, ma è un movimento del tutto naturale, soprattutto in vista di notizie che annunciano importanti novità come ad esempio la presenza di ristampe. Concludendo quindi continuate a cercare il tesoro più ambito del mondo dei manga, miei cari aspiranti re dei pirati, perché sono certo che il bello per il GCC di One Piece dovrà ancora arrivare. E voi quale carta volete trovare nel PRB01 e la desiderate per collezionismo o per giocarla in un deck? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei DCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.